L'eliminazione dei tumori correlati al papillomavirus è il tema del confronto di oggi all'emiciclo e della tavola rotonda nella quale più in generale si è ribadita la necessità delle vaccinazioni contro diverse malattie. Eppure, almeno relativamente al Covid, sembra essere tornato di moda un certo scetticismo e i dati parlano chiaro anche a livello nazionale. Molte persone che si recano dai medici di famiglia, si apprende, per l'anti-influenzale non fanno la quarta dose per il Covid tra le fasce alle quali si raccomanda. L'assessore Veri spiega che in questi giorni sono aumentati positivi ma che non necessitano di ricovero in quanto il virus è meno aggressivo. Loro comunque, al di là del fatto che sia una libera scelta, continuano a raccomandare la vaccinazione e viene fuori, come lei stessa spiega, anche non avendo contezza di dati precisi che proprio in virtù di questo aumento dei dati dei positivi degli ultimi giorni, più persone stanno chiamando per prenotare anche la vaccinazione anti-Covid, seppur si intravede una certa resistenza a volte. La vaccinazione anti-influenzale è partita da un mese circa e in questo periodo c'è un aumento notevole, specialmente per quella fascia che viene raccomandata. Per quanto riguarda il Covid, noi lasciamo la libertà ad ognuno di poter accedere a questo tipo di vaccinazione. in questi ultimi giorni c'è un aumento di positivi, questi positivi non portano una diagnosi di possibilità di ricovero, quindi vuol dire che questo virus non è aggressivo come lo è stato negli anni precedenti. In ogni caso noi la raccomandazione la facciamo sempre, specialmente per quella fascia di età degli anziani e delle persone fragili. Il presidente della Commissione Sanitale, Leonardo D'Addazio, tra gli organizzatori, ha illustrato anche delle emozioni recentemente approvate dal Consiglio regionale che chiedono il rafforzamento del sistema di prevenzione dell'HPV, ampliando fasce di età e genere della popolazione ammessa, titolo gratuito alla vaccinazione. L'incontro all'emiciclo è servito anche per fare il punto sulla situazione delle asla abruzzesi. Per il governatore Marsiglio non è vero che sono berate dai debiti. Quindi prossimo passo, e bisogna farlo in maniera veloce, l'approvazione della rete ospedaliera. C'è da farlo subito perché rimane il principale adempimento che manca ancora all'Abruzzo per poter uscire dal tavolo di rientro, dal piano di rientro, dal vecchio commissariamento che ormai ci trasciniamo da troppi anni, io credo anche ingiustamente perché l'Abruzzo in questi anni, almeno negli anni in cui abbiamo governato noi, ha sempre chiuso i bilanci in pareggio, lo ha fatto utilizzando i fondi del fondo sanitario, quindi non abbiamo dovuto attingere al bilancio regionale per coprire le perdite come hanno fatto regioni più blasonate di noi.